Ci sono giorni che iniziano davvero nel modo giusto e tutto va esattamente come te l'aspetti. Altre dove gli imprevisti ci colgono di sorpresa e non possiamo far altro che affrontarli. Anche quando tutto sembra andare storto, Elettrosud ti accoglie con il calore di una famiglia. L'innovazione tecnologica è importante, ma è il valore umano che fa la differenza. Elettrosud ti accoglie con il calore di un 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 calore. Grazie. 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 Grazie.